Ultimo approfondimento della cinquina del premio strega, Rossella Postolino, mi limitavo da mare te, devo dire abbastanza favorito, quindi poi vedremo insomma cosa succederà. Edizioni Feltrinelli, la storia è ambientata a Sarajevo, siamo nel contesto della guerra della Bosnia-Herzegovina, quindi anni 90, precisamente dal 92 al 95, nello specifico si tratta di una storia vera legata a dei bambini e i protagonisti sono in particolare i tre bambini, Omar, Nada e Danilo. Omar e Nada vivono in un orfanotrofrio a Sarajevo, mentre Danilo ha una famiglia con la quale vive una madre, un padre e una sorella, sempre a Sarajevo. Negli anni della guerra a un certo punto le organizzazioni umanitarie hanno deciso di provare a salvare i bambini portandoli in Italia e quindi hanno fatto questi pullman di bambini che poi sono stati dati per un po' di tempo in affidamento a delle strutture, strutture religiose, case di accoglienza e alcuni di loro hanno poi invece trovato anche delle famiglie che li hanno adottati. Tutto questo però non necessariamente previa morte dei genitori, cioè alcuni genitori biologici erano ancora vivi in Bosnia e quindi insomma c'è stata questa strana storia, anche molto difficile e dolorosa, di persone che hanno rivisto i propri genitori anche 20-25 anni dopo tutto questo. Attratta da questa vicenda, Rossella Postorino ha deciso di raccontarla e di raccontare come poi possono essere evolute le storie di questi bambini, andate in strade diverse, insomma Omar effettivamente viene adottato insieme a suo fratello da una famiglia, ma lui non accetta questo amore, questa famiglia diciamo perché dice io ce l'ho una madre, non so dov'è, so che è viva da qualche parte, non posso accettare l'amore di qualcun altro quando ho una madre che mi aspetta, mi sembra una sorta di tradimento. Nada invece è uno spirito ribelle che non sa bene collocarsi nel mondo e vuole, da una parte è ebbra di questa libertà, di queste novità che ci sono, dall'altra non sa come muoversi. E poi c'è Danilo che è quello un po' più con i piedi per terra, è un po' più grande e vorrebbe insomma riuscire ad ambientarsi nel nuovo ambiente in Italia, vorrebbe condurre una vita appunto più agiata, però i ricordi e soprattutto anche il legame che ha creato in particolare con Nada lo tiene ancorato a quel passato difficile che però deve trovare una risoluzione dei genitori che ci devono essere e quindi in qualche modo si adopera anche per risolvere i problemi degli altri. Queste sono le storie che troverete all'interno di Mi limitavo da Marete, Rosella Postolino è una scrittura sicuramente accattivante, coinvolgente, molto ricca e è una storia appunto che già di per sé è una storia interessante, tra l'altro una guerra che ci ha toccati molto da vicini, geograficamente molto vicina. Per caso noi, come diceva anche lei durante l'ultimo incontro che ho moderato, insomma che ho sentito dalle sue labbra, lei diceva noi per un caso siamo qui e non siamo in Ucraina, per un caso le nostre vite sono delle vite che procedono senza la guerra invece che appunto a quello che succede è a pochi chilometri da noi e questo è la casualità ha colpito quell'altro territorio in quegli altri periodi e la riflessione su questo, su quanto ci possa essere da un momento all'altro uno stravolgimento delle vite e su quanto anche lo stesso fatto di venire al mondo sia in alcuni casi un dolore, noi veniamo strappati da un ambiente caldo, sicuro, tranquillo, accogliente che il ventre di nostra madre è lanciato in un mondo che come in questo caso può essere un mondo in guerra e quindi che ci deve sfidare, che ci sfida ogni giorno per la sopravvivenza, ecco. Mi è piaciuto sì, sicuramente sì, io devo dire che come anche nelle assaggiatrici trovo che Rosela Postolino abbia grande perizia nella scrittura, in alcuni casi sento, per una questione proprio personale, di sensibilità personale, che manca un po' di emotività, cioè che mi sembra a volte un po' troppo netta, no, in alcune cose, un po' troppo letteraria, sì, chirurgica, ecco, questo in effetti sì, però è anche vero che c'è grande perizia, forse anche il fatto che faccia di lavoro anche l'editor le permette di avere una dimestichezza tale con il linguaggio, con le parole che si percepisce veramente in ogni pagina e questo è quello che penso, insomma, del suo libro. Voto infermate. Voto infermate 20, sicuramente 20, un libro che si fa leggere con grande serenità, grande tranquillità, ci sono dei piccoli estratti in corsivo, di cui lei ha anche parlato nell'incontro che trovate anche completo sul nostro canale YouTube e del perché abbia scelto il corsivo e che tipo di, diciamo, ruolo hanno nella storia, però invece ascoltiamo un altro estratto da quell'incontro in cui lei ci racconta un suo punto di vista rispetto alla scrittura di questo libro. Prima voglio farti una domanda. Prego. Le assaggiatrici ha in produzione una versione filmica, un film, una trasposizione pure mi limitavo da Matteo. Allora, ci potrebbe stare anche qui perché è un libro corale, c'è più di un personaggio, c'è una storia di formazione, quindi potrebbe essere appassionante. Sicuramente sì, certo, la storia delle assaggiatrici è una storia talmente peculiare che sicuramente ne può venire fuori un prodotto molto interessante come film. Oltretutto c'è la vicinanza con i bambini in Ucraina in questo momento. Eh sì, sì, non lo so. Potrebbe forse proprio per questo sembrare più che altro un'operazione paragnosta, diciamo. Invece, le assaggiatrici era proprio una storia pazzesca di per sé. Anche quella è una storia vera, tra l'altro. Sì. Sentiamo le parole di Rosella Postorino. Che cosa è successo? Che quando è scoppiata la guerra e una missione umanitaria ha deciso di portare i bambini in Italia appunto per aiutarli, non è stato possibile avvertire i loro genitori. E quindi i bambini sono venuti in Italia senza che i genitori lo sapessero, sono cresciuti in Italia, sono diventati adulti senza avere più notizie dei loro genitori, senza sapere se fossero proprio vivi o morti. Alcuni di questi bambini sono appunto diventati degli adulti hanno ritrovato i genitori dopo 20 anni, dopo 25 anni. Per 25 anni non hanno più saputo niente di loro. Mi ha colpito esattamente questo ed è da lì che sono partita. E da questa, cioè sono partita nel senso che questa storia mi ha così interessata che sono andata in quella direzione indagandola senza sapere bene dove mi avrebbe portata. Mi ha portata poi a questo romanzo. che è un romanzo che racconta sì di bambini che scappano dalla guerra, racconta di bambini sradicati, ma racconta soprattutto della complessità delle relazioni fra esseri umani. E lo racconta senza prescindere dalla storia con l'S maiuscola. Ieri mi è capitato per caso durante una presentazione di citare Maria Bellonci perché Maria Bellonci diceva che l'avventura psicologica secondo lei era nella storia con l'S maiuscola e che quando raccontava i personaggi, per esempio Lucrezia Borgia, lei voleva raccontarli nel calore, nel modo caldo, intimo, quotidiano di vivere. Allora non ci avevo più pensata questa cosa ma mi è capitato ieri di ripensarci perché spesso noi pensiamo di essere avulsi dalla storia ma non lo siamo neanche in questo momento. Noi siamo assolutamente determinati da quella che un giorno si chiamerà storia, che adesso è il nostro presente. Il fatto che siamo in Italia e non in Ucraina è essere determinati dalla storia in questo momento. Allora io amo raccontare il modo in cui dei fenomeni collettivi, sociali, delle tragedie collettive che un giorno diventeranno storia determinano esattamente il corso dei nostri sentimenti, cioè arrivano a far deragliare la nostra sessentimità, intervengono fortemente nelle relazioni che noi abbiamo con gli altri.